Oggi finisco le pillole su Mazzini, le finisco in gloria perché Mazzini ha scritto che Roma è dei romani che capiscono che Roma deve essere la terza Roma senza la croce di Cristo, è del genio e della virtù come dice lui. Allora vediamo cosa succede a Roma quando il genio e la virtù personificati da Mazzini entrano in azione. Innanzitutto Mazzini scrive a Pio Nonno che poveretto è stato costretto a fuggire a Gaeta e gli dice tu non sei degno di vivere sulla nostra terra. Mazzini è genovese, non c'entra niente con Roma, niente con Roma sulla nostra terra. Sentiamo cose umilmente ma secondo verità scrive Pio Nonno da Gaeta dove è costretto a stare in una locuzione che si chiama Quibus Quantisque Malorum, 20 aprile 1949. Allora Pio Nonno parte dalla considerazione che i rivoluzionari sostengono che loro vogliono il bene della Chiesa, sicuramente vogliono il bene della Chiesa, renderla più libera. Come la rendono più libera? Togliendo al Papa il potere temporale, sicuramente così la Chiesa sarà più libera. Vediamo cosa descrive Pio Nonno i fatti commessi dalle sette massoniche piene d'odio contro la Chiesa, il nome della Chiesa. E' impedita al Pontefice ogni tipo di comunicazione, vuoi col clero, vuoi con i vescovi, vuoi con i fedeli di Roma. La città si riempie di uomini, apostati, eretici, comunisti e socialisti, come si definiscono, provenienti da tutto il mondo, pieni d'odio nei confronti della Chiesa. I liberali si impossessano di tutti i beni, redditi e possedimenti ecclesiastici. A Roma i beni ecclesiastici erano parecchi, moltissimi conventi, moltissime chiese, certamente. Quindi questi appena arrivati devono liberare la Chiesa dai beni che ha. Le Chiese sono spogliate dai loro ornamenti, gli edifici religiosi dedicati ad altri usi, le monache maltrattate, i religiosi assaliti, imprigionati e uccisi. Questi sono i religiosi, quelli degli ordini religiosi. I pastori, il clero diocesano, separati dal proprio greggio e incarcerati. Questa è la libertà che viene realizzata. Specifica il Papa che questa persecuzione non è solo contro la Chiesa, è anche proprio contro le radio, cioè contro il comune di Roma. L'erario pubblico è dissipato e ridotto a nulla, il commercio interrotto e quasi inesistente, i privati derubati dei loro beni da coloro che si definiscono guide della popolazione, guide certo nel ladrocinio. La libertà è la stessa vita di tutti i sudditi fedeli messa in pericolo. Vediamo un po', qualche anno più tardi, Luigi Carlo Farini, futuro presidente del Consiglio, quindi liberale, scriverà quello che succede a Roma. E questo è l'alter ego del Papa, diciamo, anche se era un nemico giurato del Papa, però scrive quello che succede. In uno scritto che si intitola Lo Stato Romano dal 1814 al 1850. «Fra gli inni di libertà, gli auguri di fratellanza, erano violati i domicili, violate le proprietà. Qual cittadino nella persona, qual altro nella roba era offeso? E le requisizioni dei metalli preziosi, devenivano esca all'adrocinio e pretesto a rapinerie». Gloria alla Repubblica Romana, gloria a Pio IX, che l'ha descritta così bene nelle sue conquiste. Forse sarebbe il caso che qualcuno di noi lo sapesse. Grazie.